stiamo facendo il senso di fare una cooperativa una cooperativa agricola chi vuole partecipare partecipa sia dei soldi che sia di specializzazione che chi è pecorato si fa fare pecorino, poi fare formaggio, fare ricotta, chi per esempio è adattato ai vacchi chi è adattato con i porci, la cooperativa è adattato nella vigna la prima proposta la faccio io, io sogno chi è che ha mongi è un'unica, è un'unica, è un'unica, è un'unica però aspetta un momento, adesso si arriva a casa, ma si stanno facendo vacchi è un'unica, è un'unica, è un'unica è cooperativa giovanile? si, cooperativa giovanile che ho più piccolo avevo 80 anni è un'unica, è un'unica, è un'unica ora voglio sapere, l'indicazione di questa cooperativa, come va a chiamare? che vuol dire Savas? società, vagabond da spazio hai avuto che mondo non vuole avere? no, mondo? no, non vuole avere un'unica, non vuole avere un'unica se lo sapete chi è tutto, tutto questo le tasse dei metri? no, allora... però io, personalmente, a mondo è tanta fiducia, non c'è io, personalmente, a mondo è tanta fiducia perché è troppo severo nel momento se poi cambierà, allora va bene ma nel momento sta facendo troppe cose severi perché lui se lo deve prendere con quelli mille a dare non con quello che ha 500 euro di pensione uno che ha una piccola casa che ci ha fatto dei sacrifici a sudare lui ci mette la tassa ma deve mettere a chi ha 5, 6, 7, 8 appartamenti che vanno in affitto allora quello si che deve pagare la tassa se io ho 7, 8 appartamenti e io ce l'ho in affitto io devo pagare la tassa, non devo evagliare ma se io c'è una casa che mi ha fatto sudore così devo pagare la tassa e che cos'è? signor Mondi se io ho una scherzata una frenata in questa manovra? in questa manovra dia la frenata una frenata per i poveri per i ricchi forza per i ricchi perché ricchi sono e ricchi rimarranno sempre perché quelle sono altre persone ma è il povero maschino che c'è? il povero è sempre povero con 500 euro al mese che cosa deve fare? pare luci, pare monnizza, pare acqua, pare che disgrazia che bello, che va a fare? è bello o no? sì chiudiamo stop all'intervista ecco a fallo bene le povere turnatari è bello o no?